Da Wenling Di Gemma Ruiz Palà Edito da Voland, Collana Mazzoni Wenling, originaria della Cina, è arrivata a Barcellona incinta di sei mesi in cerca di un avvenire migliore per i propri figli. Ora, a distanza di dieci anni, gestisce con il marito un centro estetico che è il cuore nevralgico del quartiere Gracia, frequentato anche da una regista di documentari stravagante e curiosa. Appuntamento dopo appuntamento, manicure dopo manicure, fra le due donne cresce una profonda amicizia, alimentata dai mille problemi di una società che continua a ostacolare l'integrazione e a favorire il pregiudizio. Nel salone di bellezza di Wenling, tra cure di mani e piedi, tagli di capelli e permanenti, lacrime e risate, si affrontano i grandi temi del presente. L'autrice Gemma Ruiz Palà è nata nel 1975 a Sabadell, nel 1997 inizia a lavorare per la televisiode Catalunia specializzandosi in cronaca culturale. Esordisce in narrativa nel 2016 con il bestseller Argelag, che racconta le vicende di tre donne impiegate nell'industria tessile durante la guerra civile. Nel 2020 pubblica il suo secondo romanzo, Da Wenling, e nel 2022 vince il premio Sant Giordi con Les Nostres Mares.